Si raccusa controllo del territorio e denunciate due persone. Agenti della volante hanno effettuato un servizio di controllo del territorio con particolare attenzione al rispetto delle vigenti norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Nel corso del servizio gli agenti hanno controllato altresì coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale e hanno denunciato due persone per inosservanza all'obbligo di dimora poiché assenti al momento del controllo. Sempre gli agenti del commissariato di Avola hanno denunciato un 58enne e un 34enne entrambi residenti a Merille e già noti alla forza dell'ordine. I due uomini sono stati sorpresi dagli agenti impegnati in servizio del controllo del territorio mentre tentavano di vendere dei kit per il primo soccorso agli automobilisti in transito. Pertanto sono stati denunciati per i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.